E' un ente autorizzato dal Ministero delle Università ad attivare un corso di laurea in mediazione linguistica. Oggi siamo qui perché abbiamo una open family, cioè significa che da oggi in poi sono aperte le iscrizioni a corso di laurea in mediazione linguistica. Iniziamo oggi, le iscrizioni si chiuderanno a fine settembre, logicamente è possibile anche accedere ad una borsa di studio, la borsa di studio è stata un professore Luigi Piccirilli, dove è possibile logicamente ricevere fissino al 70% della retta universitaria. E' un'università a misura d'uomo, significa che da noi, tra i numeri, ma sapete delle persone con le quali è possibile oggettivare un rapporto diretto tra il docente e l'alunno. Noi abbiamo un numero chiuso, massimo 50 persone per ogni anno, e che significa appunto, numero esigo, significa appunto alta qualità di formazione.